Saranno tre, saranno gentili, garbati, cortesi. Mi lasceranno mettere comodo, magari. Magari mi lasceranno perfino fumare un'ultima sigaretta. Porteranno un macchinario, ma il loro capo mi terrà la mano quando quel coso inizierà a funzionare. Chi li ha ingaggiati? Mio fratello, forse. Non mi piace quel bastardo esaurito, ma... In qualche modo, li voglio bene. Effettivamente abbiamo avuto un po' di questioni riguardo all'eredità. E sono io a esserne uscito più ricco. Ma proprio per questo... Non credo che possa permettersi un'operazione del genere. No. Poi ci sarebbe... Quel mio collega. Ma sì, dai, è un mio amico. Non ricordo come si chiami, ma ricordo... Ricordo benissimo di avergli rovinato la vita. Già. L'ho convinto a rubare all'azienda in cui lavoravamo per poi fare il doppio gioco e farlo licenziare. Lo denunciarono pure per frode. No, lui non avrebbe le palle di fare una cosa del genere. Forse... Forse Lisa. Una delle tante che per quanto mi ci sia divertito alla fine mi hanno stufato. Tutte uguali. Esultavano per le mie frustrazioni. Fremevano per i miei rimpianti. Ridevano per le mie sconfitte. Quanto a Lisa. Si è sposata ed è diventata ricca. Abbastanza da permettersi... I tre. In effetti. Ma lei non si spingerebbe mai a tanto per me. Grazie, sconosciuto, per aver ingaggiato i tre. Non mi sono mai sentito così vivo. Quando arrivano? Che aspetto ha il loro strumento? Come sarà la mia morte? Identica alla mia vita. Diversa nella forma, forse. Ma senza niente di nuovo. Siete voi? Posso avere l'ultima sigaretta, almeno. Non abbiamo tutta la notte. Entro domani sarà tutto passato. Finiremo tra due minuti. È pronto. A questo punto Denton ha sempre bisogno di una mano. Saranno tre... che li ha ingaggiati. Come sarà la mia morte? Niente di nuovo. Siamo ritornati. No. 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 Grazie a tutti